Lo tsunami grillino si è battuto anche su Piacenza e anche se il Movimento 5 Stelle non porterà in Parlamento nessuno dei tre candidati del nostro territorio, la soddisfazione dei piacentini è comunque tanta. Diciamo che ci aspettavamo un grande risultato, non così grande effettivamente. Che nuovi scenari apre a livello locale? A livello locale nessuno, noi continuiamo a lavorare, facciamo quello che abbiamo sempre fatto, parliamo sia con la destra sia con la sinistra e spero che lo facciano anche giù in Parlamento adesso. Adesso ovviamente un grosso in bocca al lupo a chi è stato eletto, tanto lavoro, devono lavorare tantissimo e devono comportarsi bene se no vanno a casa immediatamente, questo è sicuro. Nel Movimento si chiedono chissà che risultato sarebbe arrivato se il comizio tour di Beppe Grillo fosse passato anche da Piacenza. Sì, ce lo siamo chiesti effettivamente, diciamo che però guardando i dati, io non sono un politolgo ovviamente, abbiamo visto che la media però era quella. Se ci fosse stato un comizio probabilmente qualche puntino in più l'avremmo preso, diciamo che noi il fattore G, il fattore Grillo è determinante per il Movimento 5 Stelle. Secondo voi l'instabilità deve portare a nuove elezioni o c'è il dovere di cercare di trovare un governo di larga intesa? No, diciamo che di solito le riforme le fa il Parlamento, non le fa il governo. Quindi ci sono tanti punti in comune, tanti punti in comune che possono essere messi un piatto e possono essere discorsi sia da una parte che dall'altra. Io penso che in questo momento lo Stato ci chiede stabilità politica e ci vuole anche per l'economia. Per un paio d'anni dobbiamo tenere questo governo qua. Per un paio d'anni dobbiamo tenere questo governo.